La tutela del suolo passa da un'agricoltura pulita. Questo è il titolo del convegno che ha presentato i risultati di un monitoraggio voluto da Federbio, che ha analizzato 12 suoli agricoli comparando il terreno biologico con terreni attigui coltivati con metodi tradizionali. Nei campi convenzionali sono state ritrovate 20 sostanze chimiche di sintesi, in quelli biologici soltanto 3. A farla da padrone nei campi tradizionali il glifosato e l'AMPA, sostanze catalogate dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro come probabili cancerogeni. Da ciò nasce l'appello alle istituzioni per la salvaguardia di un suolo fertile e sano. Emerge un dato, intanto, che c'è una differenza consistente tra produrre in biologico e produrre in convenzionale, perché i residui di sostanze chimiche, di molecole di sintesi per fitofarmaci usate in agricoltura sono consistenti in produzioni soprattutto intensive e non ci sono nel biologico. C'è solo qualche residuo, pochissimi di vecchia data, come ad esempio il DDT, una sostanza che non si usa più, dal 1978 ma che è rimasta comunque nel suolo. Quindi è evidente una cosa che si può cambiare usando un metodo di produzione che favorisce un suolo pulito e fertile. E da questo punto di vista possiamo anche notare che però ci sono alcune produzioni convenzionali che hanno comunque un suolo pulito, ad esempio grano, olivi. Quindi fare un passaggio verso il biologico è un'opportunità grande per l'agricoltura italiana. Il tema del suolo è un tema che è purtroppo molto sottovalutato dalle istituzioni, dalla politica. La stessa Europa che non ha ancora varato una direttiva sul suolo. Oggi ne parliamo attraverso l'agricoltura sostenibile, la riduzione dell'uso dei pesticidi che troviamo nel suolo come emerso dal monitoraggio, che troviamo nelle acque, che troviamo anche con residui su frutta e verdura. Per affrontare questi problemi ovviamente bisogna fare quello che ci chiede l'Europa nella strategia europea, farm to fork e biodiversità. La riduzione forte, graduale, ma assolutamente incessante dell'uso dei pesticidi. E su questo la legge sull'agricoltura biologica approvata recentemente dal Parlamento italiano può dare un contributo importante, ma serve anche adottare il PAN, il piano nazionale sui pesticidi e dall'altra parte un piano strategico nazionale che è la versione italiana della nuova politica agricola comunitaria per fare in modo che la lotta alla presenza dei pesticidi nell'ambiente con tutto quello che ne consegue sulla biodiversità e sulla salute umana si possa fare in maniera concreta e veloce come appunto chiedono le istituzioni europee. Proprio tre settimane fa noi abbiamo importato in giunta l'adesione alla carta della difesa del suolo dopo un progetto europeo che Roma ha sviluppato e quindi dà delle indicazioni importanti non solo sull'uso del suolo ma sulla decementificazione e di ritornare appunto a occuparsi del suolo in termini idrogeologici, in termini di contaminazione. Roma, l'agricoltura romana ha sviluppato un grandissimo lavoro sull'agricoltura biologica e quindi l'agricoltura biologica vuol dire anche difesa del suolo quindi tutto questo diciamo si sposa e è coerente con le politiche che stiamo facendo sull'agricoltura, sulla food policy ma anche sulla forestazione urbana e su un uso diverso del suolo di Roma.